Quanto dal mio punto di vista non è in discussione, cioè se uno mi dice oggi tutti i settori nostri, chiunque, uno deve essere presente ogni giorno su sti social, non puoi essere presente quando cazzo vuoi tu, ogni giorno tu devi essere presente, poi uno può stabilire sono presente di più, di meno, faccio un post al giorno, ne faccio 5, ne faccio 10, ne faccio 100, però tutti i giorni io devo timbrare il cartellino, non è che dico oggi e domenica, allora noi domenica, internet è chiusa la domenica, no, è aperta, anzi magari uno passa e la vuol comprare, capito, la sua... Io partirei dalle cose più importanti in generale, quindi strategia, pensando a dove andare a comunicare, consiglio che vale per tutti, se uno nel dubbio non sa bene a dove partire, partiamo da un posto, il più adatto, Instagram, Facebook, LinkedIn, ognuno scelga il suo, il più adatto, poi se volete facciamo un giro di tavola e vediamo quale può essere il più fatto, e parti da lì e cerchi di essere dominante lì, e poi allarghi, quindi numero uno semplificare, perché sennò ti perdi, c'è troppa roba. L'ottimizzazione, io non farei, diciamo, la ottimizzazione prematura, no, che peraltro è un bias cognitivo che abbiamo tutti quanti. C'è un'azienda che mi ha sempre colpito, che ha chiuso, una startup tech che era molto promettente e questi cacchio avevano, non so, la strategia di content marketing, era una roba, cioè serviva uno scienziato termonucleare per capire quell'excel, tutto perfetto, preciso, conversione, cosa, il dato, l'analisi, una roba, un cinema, deve essere una roba facile e fattibile. Quindi, scelgo il posto dove posto, metto sul mio team che è in grado di produrre e dopodiché dico, ok, mi do una quantistica, che secondo me deve essere giornaliera, e io a quel punto inizio a buttare fuori i contenuti. Che piova, che nevichi, io butto fuori i contenuti. Sono un magazine e butto fuori i contenuti. Fine è la storia. Però senza incasinarmi la vita. Poi, quando funziona, quando vedi che ci sono numeri, non so, parti con il blog, parti col sito, prima di metterti lì a dire, ah se, ottimizzo e faccio, testa B, dopo parliamo della parte di analitics e controllo, prima di entrare in tutto sto cinema, valuto se c'è, se è un canale che ha un ritorno, se funziona, se è una roba che neanche funziona e che è pessima e che in azienda è un disastro, non sto a ottimizzare, fare, capito? Cioè, prima verifico i canali che possono essere più performanti. Dopodiché, su quelli che vanno di più, vado all in. E lì, allora sì, lì, per dire, noi, non so, quando abbiamo lanciato 4books era una pagina con quattro pdf. Fine. Non è che c'era l'app, il studio, il coso, la b-test, zero, non c'era niente. Oddio, forse la b-test l'abbiamo fatto sulla Lenny, c'era una b-test. Però ecco, parti con grande semplicità e non disperdi e cerchi di capire il più velocemente possibile quali sono i risultati. Però questo per me è l'aspetto. In generale, uno parla ma poi la soluzione è quella che dicevi, è esecutiva. Ecco, all'inizio della giornata, un tema di cui abbiamo parlato era che non è che tu debba essere un super esperto digital per avere numeri su digital. Tu puoi prendere, noi avevamo in blogosfera una ragazza che era, aveva fatto, si era laureata in cattolica. Io ero, peraltro, il suo prof, nel senso che ho fatto l'assistente in cattolica, aveva fatto la tesi con me. Era una sveglia, così, appena uscito l'università. E cercava esperienza, ha detto, guarda, vuoi scrivere un blog da noi? Cioè, questa da sola teneva in piedi l'azienda. Partita da zero. Così era brava, scriveva, faceva dei numeri incredibili. C'era un blog di gossip play. Ma un fenomeno. Così è uscita da nulla. E se tu guardi, cioè, Alessandro segue adesso le campagne ADV, ma lui fa tutt'altro nella vita. Ma sai quante persone io conosco che fanno ADV su Facebook? Ma conosco tutti, agenzie, i fenomeni, i certificati, il coso, ADEspresso, piattaforme. Cioè, gente anche, come dici tu, cioè, professionisti validi, ma a lei invece ha più competenza rispetto a questa gente qua. Ma sulla carta, dici, ma cazzo, ma tu vendi utensili, come cazzo fai a... cioè, è una cosa che fai fatica a volte a... e invece devi sapere che tra uno che si mette sul pezzo e comincia a martellare online, senza istruzione di alcun tipo, e uno che è super certificato, che però posto una volta al mese, io prendo tutta la vita quello che ogni giorno martella, capito? Perché imparerà poi. Se non è stupido, imparerà, insomma.